Te l'aspettavi di avere questo approccio con la Roma? Eh no, la verità io sono arrivato una domenica notte a Roma, mi sono allenato lunedì, martedì, ero già in campo quindi è andato tutto troppo veloce, però grazie ai miei compagni che mi hanno ricevuto molto bene mi hanno dato la fiducia che sempre le manca a un giocatore quando arriva nuovo quindi grazie a loro ho potuto giocare così subito e poi abbiamo fatto un bel finale di stagione